Sono contentissimo perché so che il Comune si è impegnato molto, che i ragazzi, saluto Davide per tutti, si sono impegnati per avermi, quindi per me è un piacere veramente. Sappiate che anche io festeggio oggi perché è l'ultima data della giornata, prima di ricominciare con Radio Chischis, come diceva Fabio Ciletto che saluta e ringrazio insieme a Vittorio Alfieri che è bello come il letterato, ma a differenza di quell'Alfieri lì è ancora vivo. Quindi, signore e signori, è l'ultima data della mia tournée, quindi sono felicissimo di condividerla con voi, ma sappiate quanto bene vi voglio. Voi avete un'idea di quanto scaramantico possa essere un artista? Io per essere qui con voi stasera, domani prendo un volo di venerdì 17, me lo meriterò un applauso. Sarò tutto in viaggio così a cercare le chiavi?